Ah! Cosa? Perché siete qui? Uscite fuori? Tu, qui a trovare me? Solo per me! Però, non sarebbe bello se vi ammalaste anche voi! È il pensiero che conta! Ah, si vedrà che sono felice! È preoccupata per me! A causa del nuovo tipo di influenza! Pensavo si interessassero solo di anime e videogiochi! Sono un po' commossa! Entra pure! Oh, grazie per essere venuta nel tuo giorno libero! Grazie! Sono quasi guarita! Anche la febbre è scesa quando le medicine hanno fatto effetto! Oh! Fiore e frutta! Come sono contenta! Ah! Siete pure! Siete pure! No, figurati! Va bene! Oh, grazie! D'accordo! Ecco! Così dovrebbe essere una visita da malato! Veramente, Konate è venuta ieri! È stato pazzesco! E' stato pazzesco! Così è venuta! Basta buona! Così! Così! Così